Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, oggi voglio parlare a tutti quelli che mi seguono, hanno seguito i miei video, le mie incredibili, scusate sono passate quattro belle ragazze, si può dire. Allora, dicevo, chi mi segue per il copy trading, ragazzi, voglio parlarvi di un servizio che è molto meglio del copy trading. Se ti è capitato di seguirmi, avrai visto che c'è sempre il rischio di bruciare il conto, ok? Qui abbiamo un'iniziativa della Deserve Academy, il copy wallet, che è molto meglio del copy trading e seguimi nel ragionamento. Allora, si parte tutti insieme l'1 giugno, ok? Alex e Manu, che già conoscerete se mi seguite, i creatori della Deserve Academy, un gruppo Telegram dove ci formano, ci condividono i portafogli che stanno costruendo, noi siamo posizionati, tutto quello che hanno fatto finora è stato incredibile, siamo in profitto e ci aspettiamo, siamo posizionati già, abbiamo fatto un per due, un per tre di quanto abbiamo investito nel 2023, ci aspettiamo un per cinque, un per dieci, io non lo so. Tutti quelli che sono stati lungimiranti nel 2023, sono entrati e si sono formati e si sono posizionati, sono pronti per saltare sul razzo della Burran. Tutti gli altri, ragazzi, non so che dirvi, non si scherza con questo mercato, il mercato delle cripto, parte la Burran, non sei posizionato, non sei seguito passo passo, non hai l'assistenza di due professionisti, io mi sento in una botte di ferro. Ora hanno lanciato questo nuovo servizio dove praticamente noi andremo a copiare il loro nuovo wallet che creeranno, basato sui migliori progetti, che sfrutterà la Burran da adesso fino alla fine dell'anno, mi immagino, e tu hai la possibilità di copiare un wallet di persone che conosci, ok? Vatti a vedere Alexander Lex, i suoi ultimi video insieme a Manu, mi seguite, li conoscete, Alex è anche uno youtuber, persone che conosci, che hanno già dimostrato il loro valore, che andranno a creare un nuovo wallet, tu lo puoi seguire in automatico, ok? E partiamo tutti insieme, è una sorta di challenge, quando mai ti capita di conoscere un trader che sta partendo e ha l'obiettivo come te di moltiplicare dei soldi e lo puoi seguire dal giorno zero, invece di andare su una piattaforma, su un exchange qualunque e fare copy trading e non sai a che punto si trova il trader, se viene da una serie positiva o negativa, magari lo becchi il giorno che ti brucia tutto, lui però ha bruciato una parte dei suoi profitti, perché poi il ragionamento lo devi fare sul lungo periodo, ok? Magari tu entri il giorno che gli va male, però poi lui recupererà Matt e intanto ti ha bruciato il conto, tu invece hai la possibilità in questo momento, se entri, entro il 31 maggio ti puoi iscrivere, ci sono gli ultimi tre posti con lo sconto di 300 dollari, vai in descrizione, c'è il mio gruppo Telegram, tu entri e lì nel post fissato in alto, anche uno degli ultimi post che trovi nel gruppo, c'è tutta la spiegazione di questo copy wallet nei dettagli, su come funzionerà, c'è anche la spiegazione di come pagare, e poi volendo c'è anche il mio contatto Telegram se mi vuoi chiedere qualcosa, ma affrettati ci sono gli ultimi tre posti, paghi invece di 1.500, paghi 1.200 se entri oggi, gli ultimi tre posti, poi le iscrizioni scadranno il 31 maggio e l'1 giugno partiamo, dici ma perché si paga? Perché si paga? Eh ragazzi, tu puoi mettere 500 dollari, Alex e Manu faranno questo portafoglio, lo faranno anche per se stessi, ma tutti ti forniranno un servizio, saranno bravissimi nel limitare i rischi, anche se copi quello praticamente a leva, ovviamente più rischi ci sono più guadagni, però sarà una leva bassa, ma lo puoi seguire anche spot, loro si aspettano, l'ho già detto, nel wallet a spot un per 5, un per 10, se stai a leva farai anche un per 20, un per 30 del capitale, tu con 500 dollari, puoi anche rischiare poco, questi 500 dollari possono diventare 10.000 dollari alla fine dell'anno, sfruttando la Burran, senza che tu fai niente, fa tutto Manu e Alex, scelgono i progetti, entrano a pack, li mediano, gestiscono il rischio, ribilanciano, oh è un lavoro, è un lavoro, ma porca miseria, se tu metti 500 dollari e ti fanno fare 10.000 dollari, ma glieli vuoi dare 1.000, sono anche pochi, dovresti dargli il 50%, quindi questa è la fi che si paga, se entro oggi, se fai subito, risparmi 300 dollari, invece di 1.500 paghi 1.200, vai in descrizione, c'è il mio link Telegram, entri nel gruppo Maratrading, e leggi il post, sia quello fissato in alto, ma uno degli ultimi, c'è anche il mio contatto se mi vuoi iscrivere, ma fai presto, perché sennò poi rischi di rimanere fuori o di pagare di più, se vuoi risparmiare, vuoi entrare, fallo adesso, link in descrizione, entra nel gruppo Telegram, ok? Tu hai la possibilità di iniziare il giorno zero insieme ai trader, poi non è trading che aprono operazioni ogni giorno, no, posizioni, non saranno neanche tanti asset, 4-5 asset, posizioni lasciate lì nei mesi, immediate, paccate, cioè entrare piano piano, sfrutta la Burran, già ci aspettiamo ancora l'alt season, quindi ci sarà un per 5, un per 10 del mercato, ma in più se noi creiamo un portafoglio a leva per 2, per 3, possiamo moltiplicare i nostri profitti, è un ulteriore servizio per massimizzare questo mercato nella sua fase più alta, perché la Burran avviene una volta ogni 4 anni, vogliamo prenderci, se abbiamo capito come funziona questo mercato, questo settore, vogliamo massimizzare i profitti, questo è un ulteriore servizio che offrono per massimizzare ulteriormente i profitti, per chi è già dentro l'Academy, vi conviene abbonarvi ragazzi e seguirlo a leva, per tutti gli altri, magari anche persone che non sono posizionate, è un servizio fondamentale, se tu non bazzi in questo settore, ma non sei esposto, ma vuoi perderti questa opportunità, con questo servizio entri, paghi, metti un budget che può essere 500, 1000 e stop, una volta che pagate ed entrate, venite aggiunti nel gruppo Telegram dedicato al copy wallet, dove trovate la chat di assistenza 24 ore su 24, tutti i tutorial che servono per attivare la copia, che volete fare? Si tratta di pagare, entrare l'1 giugno, seguire le istruzioni, settare tutto, boom, con una percentuale, cioè loro non so quanto metteranno, tu metti il tuo budget, lo metti nel tuo account future, ripeto sarà tutto spiegato passo passo nel gruppo dedicato al copy wallet, comunque carichi, credo utilizzeranno Bing X, carichi i tuoi soldi, metti 500 dollari, lo metti sui future se vuoi andare a leva o lo metti spot nel tuo account spot se vuoi andare a spot, clicchi, copia ed è fatta, quando loro entrano tu in percentuale a quello che avrai impostato al moltiplicatore, ti diranno loro come fare, se il 10% nel tuo budget, boom, lui copierà in automatico e basta, e basta, puoi anche chiudere tutto, tornare a fine anno e vedere i tuoi profitti come sono messi, tutto automatico, gestito da dei professionisti che ovviamente con una leva anche piccola c'è comunque il rischio di liquidazione, ma loro andranno a, ovviamente l'obiettivo, il primo obiettivo loro è tutelare il capitale, fare operazioni, c'è un rischio, ok, però rischi calcolati, ok, entrare poco alla volta, quindi entra, come funzionerà, decideranno di entrare su una crypto, entreranno piano, poi che ne so, il mercato un po' di traccia, incrementeranno quella posizione così da abbassare il prezzo medio e quindi da abbassare il prezzo di liquidazione, ok? Poi si accorgono che i razzi sono partiti, ok, poi entrano e si aspettano che da qui, cioè c'è uno studio, è tutto calcolato con l'obiettivo di farvi moltiplicare i vostri soldi, ok? Non lo so, se non siete esposti ancora, mi sembra una grandissima occasione, entrate nel gruppo Telegram, vi lascio i link in descrizione e iscrivetevi, al massimo c'è il mio contatto, mi chiedete le informazioni, io vi rispondo però, ultimi tre posti con 300 dollari di sconto, poi le iscrizioni scadono il 31 maggio, poi non si può entrare più ragazzi, perché partiremo tutti insieme, quando mai ti ricapita di beccare il momento per partire? Tutti insieme si parte e stop, e si finisce tutti insieme e sarà tutto automatico, ribilanciamento, varie entrate, tu non devi fare niente, se ci sarà da ribilanciare, fa tutto, fanno tutto loro e poi anche quando venderanno e faranno i profitti, tu potresti essere al mare o essere a sbocciare il 31 dicembre, a sbocciare i panettoni, sbocciare i panettoni, a sbocciare le bottiglie, festeggiare quelli, Fridati, io sono dal 2023 nella Deserve Academy, li ho visti lavorare a Natale, a Pasqua, a Capodanno, a Ferragosto, sempre sul pezzo. Link in descrizione, copy wallet, ultimi tre posti scontati, entra oggi, fino al 31 maggio comunque ci si può iscrivere, entrate su Telegram, contattatemi, il link è in descrizione, trovate tutte le informazioni, iscrivetevi oppure contattatemi, c'è il mio contatto per scrivermi, vi aspetto dentro, ciao!